Perchè vieni da noi? Voglio che la mia famiglia sia al sicuro. Come a dei fratelli e sorelle insegnategli la nostra via. Dai, ragazzo della foresta! Se volete vivere qui, dovrete cavalcare. Facciamolo. Dovete respirare. Respirate. Righetto, non vedono altro. Io ti vedo. Sono un guerriero come te. Devo combattere. Proteggi il popolo. Chiudiamola ora. Più ci vediamo, che è un pez buon d'ora. Di nuovo, come entra? C'è un pez buon d'ora. Dio, io ti vedo. Grazie.